Cambia il vertice del comando dei vigili del fuoco di Campobasso. Il comandante Lombardini lascia dopo 16 mesi e lo fa con un po' di commozione, essendo tra l'altro per metà molisano. Tra le operazioni più importanti sicuramente quella dell'incendio di Contrada Limiti dove perse la vita un bambino. Quello che ricordo con più attaccamento come intervento, come peculiarità è sicuramente è stato l'incendio che abbiamo avuto nel dicembre dell'anno scorso con la morte del bimbo. Quello è stato un intervento molto particolare, particolare sia per le caratteristiche dell'intervento che soprattutto per la morte del bimbo, anche se in quel caso, come dissi nell'intervista, abbiamo ridotto la magnitudo, quindi abbiamo fatto sì che gli altri componenti della famiglia fossero salvati, messa in sicurezza l'abitazione dove c'erano altri nuclei. Quello è il ricordo che porterò nel cuore come intervento di maggiore rilievo. In sedici mesi lascio una regione, quindi un territorio compreso quello di Sernio con cui abbiamo avuto un'ottima collaborazione, un territorio che è quello della provincia di Campobasso di persone per bene, di un comando con ragazzi molto attenti sia dal punto di vista operativo, quindi personale operativo che personale amministrativo e anche un'ottima collaborazione con la direzione ma soprattutto con le istituzioni. Dall'Emilia Romagna, il nuovo comandante Tripi. Questo periodo che mi accingo a trascorrere all'interno del comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso sarà un periodo proficuo e quindi sono molto ottimista sulla possibilità di instaurare buone relazioni sia all'interno ma anche all'esterno del comando. Grazie mille. Grazie mille.